L'inclusione passa anche per lo sport, questa è la base del progetto sociale che ha al suo centro il gioco del cricket presentato dall'associazione Ospiti in Arrivo di Udine, che è il vincitore della terza edizione di partecipazione nel programma di Intersos e UNHCR che finanzia e supporta le associazioni di rifugiati che vivono in Italia e le organizzazioni che svolgono sui territori attività che vedono protagoniste le persone rifugiate o richiedente asilia. Il progetto proposto da Ospiti in Arrivo utilizza lo strumento del sport di squadra come il cricket per favorire la coesione sociale per questo motivo Intersos e UNHCR hanno deciso di finanziare questo progetto tra le 92 proposte arrivate al bando. Testimoni alle animatori, un gruppo di ragazzi richiedenti asile rifugiati provenienti in gran parte dall'Asia Centrale il progetto di Ospiti in Arrivo ideato in collaborazione con UISP Udine a presentare l'attività della squadra di cricket composta da richiedenti asile che si trova a Udine dal 2017 a giocare nel parco dell'azienda sanitaria di Santo Svaldo. Dobbiamo far vedere gli altri che possiamo cambiare, non è difficile cambiare tutto quello che è e allora un giorno arriverà e tutti saranno felici. Ho avuto sempre questo sogno di diventare un giocatore ma il destino voleva qualcosa altro ma finalmente mi trovo in questa situazione in cui posso insegnare a qualcun altro.